Tony, non sapevo che stavi arrivando. Sto impacchettando l'ultima spedizione. Da quanto tempo hai quest'attività, Joe? Non lo so, cinque, sei anni? Cinque anni, tre mesi e diciotto giorni. È andata male. Senti, so che ho pagato poco, ma non è colpa mia. Ho sempre valorizzato il mantenimento dell'ordine. Se lasci che attecchisca il marcio, finirà col prendere piede e distruggere tutto ciò che hai costruito. Vedi, l'unica soluzione possibile è isolarlo e sradicarlo prima che attecchisca. Mi capisci, Joe? Cristo, Tony, devi ascoltarmi. C'è un pazzo là fuori che spara a tutti quanti. Sai quanti dei miei uomini ha ucciso? Sì. Dominic, vero? Sì. Prenderai l'auto blindata e supervisionerai personalmente l'esazione di tutti i fondi che ci sono dovuti. Sono stato chiaro? Sì, sì, signor Delazio. Quando avrei ottenuto ciò che è dovuto, consegnamelo direttamente all'hotel. Il codice dell'ascensore è 0451. Da lì, Lincoln aveva due opzioni.